dai bravo benissimo mettila di maria di maria di maria ma che gol ha fatto ma che gol ha fatto vabbè dai madonna perino di maria a supporto c'è Danilo dentro da Flaovic vediamo se si gira sì Flaovic madonna madonna che ti sei maniato vabbè bravi continuate così oh oh rigore 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 dai Flaovic eh sì questo è il rigore sì 2-0 Juve 2-0 Juve vabbè ragazzi finirà così oh attenti che di maria si fa accompagnare velocissimo da Danilo di maria di maria di maria ma fuori di poco qualità oh lave 3-0 3-0 per la Juve 3-0 non ci credo Pina Monti è scattato bene Pina Monti no smordo che era il Valdi di Maria di maria di maria di maria è finita è finita aspettiamo che l'arbitro fischia sì che partita ragazzi stavo editando il video perché ho togliato qualche parte perché se no veniva troppo lungo il video e niente vabbè faccio io l'altro bella giovedermi al prossimo video l'episodio del fantacalcio non c'è perché il gioco si è scattato di cioè io ho inserito la formazione ma me l'ha levata perciò noi ci vediamo la prossima settimana con la prossima reazione alla Juve e al fantacalcio ciao ciao ciao